Il tempo è un potente dispositivo pedagogico e la relazione educativa con i bambini molto piccoli richiede dei tempi molto lenti e gli educatori lo sanno e devono saper proprio stare e sostare lentamente nel tempo dei bambini. Per questo vi proponiamo di prenderci e di darci un tempo per poter rigenerare e risignificare tutte insieme il tempo educativo che diamo ai bambini e a noi tutte insieme. Buongiorno, sono Fabia Genoni e sono una pedagogista della cooperativa Stripes. Ho recuperato tutti questi libri perché volevo cercare un modo per risparmiare tempo e comunque riuscire a fare le mille cose che ognuno di noi deve fare nell'arco di una giornata. Poi ho trovato questo libro, Momo, di Michael Lende, e ho scoperto che forse non era la strada giusta. Adesso ve ne leggo un pezzetto. Nessuno si rendeva conto che risparmiando tempo in realtà risparmiava tutt'altro. Nessuno voleva ammettere che la sua vita diventava sempre più povera, sempre più monotona e sempre più fredda. Se ne rendevano conto i bambini invece perché nessuno aveva più tempo per loro. Ma il tempo è vita e la vita risiede nel cuore e quanto più ne risparmiavano, tanto meno ne avevano. Perciò vorrei invitarvi a condividere con me queste riflessioni rispetto al concetto del tempo. Il concetto del tempo nella relazione educativa, nella relazione con i bambini. E quindi provare ad immaginare di perdere tempo ad ascoltare, di perdere tempo a parlare, di perdere tempo a giocare, di perdere tempo per crescere. In poche parole, di perdere tempo per guadagnare tempo. E quindi in una società basata sul successo, sul guadagno, basata sul vincere, proviamo a riflettere insieme sul valore pedagogico del perdere. Vi aspetto numerosi!